Ciao e benvenuti! Oggi faremo la Canestro Challenge! E rieccoci finalmente con una nuova challenge! È da un bel po' di tempo che non facciamo challenge ed oggi faremo la Canestro Challenge! Abbiamo comprato questo bellissimo cappellino con il canestro e con tante bellissime palline rosse e bianche che faremo praticamente tre sfide che la Vale vi spiegherà subito! Oggi faremo tre sfide! La prima sfida consiste nel mettere il canestro su se stessi e con una pallina cercare di centrare il canestro Questa è una delle sfide più semplici Ho già vinto! Quindi passiamo invece alla seconda sfida La terza e ultima sfida consiste nel lasciare il canestro all'avversario prendere la pallina e cercare di centrare La terza e ultima sfida consiste, ed è quella più difficile La più difficile di tutte! Consiste, come nella seconda sfida, a lanciare la pallina nel canestro in testa all'avversario Però l'avversario dovrà muoversi destra e sinistra Così, in questo modo qua Prova per far vedere come si fa Ad esempio Facciamo un esempio E non ci è riuscito ovviamente Quindi le tre sfide Non ci è riuscito ovviamente, cosa vuoi dire? Quindi iniziamo subito! Cominciamo con la prima sfida Molto bene, molto bene, molto bene Prima di in testa Facciamo cinque palline a testa Olè, uno Vai ancora Forse è la più difficile, dovevo dire che Oh, no Ti rimangono due palline Vai L'ultima pallina Cosa, le scuoti? Olè, bene Una Adesso vediamo te Tocca a lui, vediamo Uno Due E una persa Beh, me la zola Voglio scegliere io Le tue freghe sono stregate Seconda E anche la seconda Non è andata Porta pallina Ce l'ha fatta Quarta Guarda, la senti quando ti va in testa Ultima E Ultima Questa è la più importante Se vinco questa, vinco la sfida La prima manche Speriamo di no Non mi guardare Se la porti sfiga Siamo pari Siamo pari Passiamo Alla seconda Sfida Allora Uno Due Tre Tre su cinque Tre su cinque Prima pallina Molto bene Seconda pallina Ho già vinto Tutte le sto mettendo Una Due Basta Le hai finite le palline Ha vinto Terza E ultima Sfida Allora Una Due Due L'ultima pallina Due Due palline Per me Ora Tocca a me Mi sento come I giochi in fiera L'ho sentita Vai due No 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 Una sola Quindi siamo Uno pari No Siamo due a due Perché la prima Abbiamo fatto pareggio La seconda La terza La vintaglia Quindi siamo Due a due Allora Siccome siamo pari Perché siamo due a due Faremo un'ultima Munch Un'ultima sfida Chi vince questo Vince tutto Solo una pallina Testa Tre Due Uno Non ce l'ho fatta Se vinco questa Vinco tutto Due Uno Io volevo ammazzare in diretta Siamo già giunto a conclusione di questo video Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace Commentate sotto Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto Mi raccomando Ricordatevi che io ho vinto e l'ho perso Nell'info box troverete tutti i link utili e necessari ai nostri social E ci rivediamo nel prossimo video Ciao Ciao I nostri social Cos'è? Un insetto gigante Che schifo Prendilo Prendilo No quando venite solo L'abbia spaventato Dammi un bacino qua Dammi un bacino qua Dammi un bacino che mi hai fatto la bua Ma così ci sta Mammo Ciao Ciao Siasc La 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 Grazie a tutti